eccoci qui con un nuovo documentario fruibile gratuitamente vediamolo ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono massimiliano e voi siete sul sub h2o se siete appassionati di subacquea e se siete iscritti a questo canale allora sicuramente siete amanti del mondo sommerso lì sotto c'è davvero tanto da ammirare e tanto da conoscere appunto per questo oggi voglio recensire un documentario che racconta della vita nell'oceano si intitola life in the blue questa è una recensione che come tanti di voi sanno che fa parte appunto della rubrica passione documentari quella rubrica dove mi diverto a guardare i documentari consigliarli e recensirli dando dei voti e cercando di capire cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto ovviamente ci tengo a precisarlo non sono un esperto ma sono un appassionato come tanti e il mio giudizio è basato su opinioni personali un'ultima comunicazione al termine di questa recensione dirò due parole ma giusto due su un documentario di cui vi consiglio caldamente la visione ma vi dico più avanti ma ritornando al documentario di oggi questo come dicevo è fruibile gratuitamente sul sito di replay se lo vediamo da pc oppure basta scaricare l'app se lo vediamo da smartphone o da tablet o ancora è possibile vederlo come faccio io sull'amazon fire stick che è appunto un dispositivo targato amazon che trasforma ogni tv in smart e anche su questo dispositivo è possibile scaricare l'app replay così da poter godere di tantissimi contenuti comunque io dell'amazon fire stick vi lascio qui sotto il link in descrizione quello che ho notato che però sono presenti all'interno dell'app alcuni documentari per un tempo limitato quindi è probabile che se state vedendo questo video parecchio tempo dopo la pubblicazione è possibile che qualcuno di questi documentari non ci sia detto questo il documentario di oggi come dicevo si chiama life in the blue e secondo me non potevano dare un nome più azzeccato di produzione spagnola e della durata di 48 minuti questo documentario ha come colore diciamo così ricorrente proprio il blu e vengono catturate immagini di pesci di grosse e di piccoli dimensioni che soprattutto nella parte iniziale abitano la parte più superficiale della colonna d'acqua dove è presente tantissima luce e dove è possibile ammirare proprio queste creature in tutto il loro splendore i colori poi si escudiscono ma soltanto per poco quando vengono ripresi degli organismi che abitano il fondale o organismi che amano la vita notturna non a caso il regista è un esperto fotografo subacqueo il teatro non l'ho ancora detto è l'oceano atlantico brulicante di vita è pieno di creature molto conosciute anche agli occhi dei più profani ed è forse quello ma lo vedremo poi anche dopo il punto debole di questo documentario che comunque vengono riprese delle creature per così dire più famose è quello che viene raccontato su di loro non aggiunge effettivamente poi tanto alle cose già più note in un solo caso però e devo dirlo ma senza spoilerare nulla più o meno a metà della visione viene ripreso un animale davvero molto singolare per questo genere di documentari con immagini di buon livello e curiosità decisamente interessanti per molti infine possono essere interessanti le riprese e le curiosità che riguardano la geologia marina insomma un documentario che tocca un po tutto che è molto lineare che va sodo e che lo fa al meglio quindi se proprio devo dire cosa mi ha colpito è proprio questo la concretezza la linearità e la voglia di raccontare quante più creature possibili in 48 minuti aggiungo anche la scelta coraggiosa ma funzionante di abbandonare le riprese i più sgargianti colori dei mari tropicali pieni zeppi di barriere coralline in favore di un oceano quello atlantico così tanto vasto da essere molto vario quello che non mi è piaciuto è però l'altro rovescio della medaglia avrei preferito qualche dettaglio in più e qualche creatura diciamo così un po più curiosa ma c'è anche da dire che non stiamo parlando di un documentario prodotto da i colossi del settore ma da uno staff di persone competenti e appassionate con un budget decisamente più risicato il mio voto finale è quindi 6 perché l'intento è quello di posizionarsi tra i documentari leggeri non impegnativi e per tutti prima di lasciarci però vi dico due parole su quel documentario bonus di cui vi parlavo all'inizio volevo consigliarvi un documentario girato da un gruppo di italiani che è presente gratuitamente su amazon prime video e che si intitola le ali della palude io l'ho visto e l'ho trovato davvero molto interessante e ammiro l'impegno che lo staff ci ha messo per realizzarlo e non posso non contribuire nel mio piccolo alla sua diffusione detto questo io ho veramente finito fatemi sapere voi cosa ne pensate di life in the blue fatemi sapere se siete d'accordo o se avete qualcos'altro da aggiungere o se avete qualche punto da fare fatemi sapere se andate a vedere il documentario le ali della palude detto questo io ho veramente finito iscrivetevi al canale se vi piace quello che faccio mettete un bel mi piace se proprio questo video vi è piaciuto visitate e mettete anche un mi piace la nostra pagina facebook dove siamo sempre molto attivi e condividiamo tantissimi articoli che riguardano la natura la subacquea e non solo detto questo io ho veramente finito e noi ci vediamo senz'altro ad un prossimo video ciao 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 ciao